Meditazione del vuoto a Khem al-Fnah di Valente. Tutte le guide mentono, mentono i nostri stessi sensi. La piazza è la pienezza del colore, dell'odore, del movimento, l'estrema tensione della vita giunta al suo punto di esplosione. I crocchi in circolo si fanno e si disfano e tornano a farsi come le forme del fumo e le nuvole, incandescenti, il colore, l'odore. E tutto allo stesso tempo può essere ammirato come alle porte di un sogno in cui non si può entrare e tutto subito può essere cancellato. La piazza improvvisamente la moltitudine e il suo vuoto, la scomparsa di tutti, di tutto e di chi guarda. A questo luogo di frenesia e di piacere, dice un vecchio libro, viene dato il nome di Khem al-Fnah, la piazza della distruzione. Quale distruzione? All'imbrunire il sole scompone le figure e le cancella, poi cancella le loro ombre. Fnah e al-Fnah, prima la disperazione o l'estinzione, poi l'estinzione dell'estinzione. Con tutta la moltitudine invisibile restano solo la piazza e il vuoto. La moltitudine non si sente, lo sguardo non incespica nella resistenza, nell'opacità dei corpi, non incespica e a sua volta smette di guardare Khem al-Fnah, la piazza della distruzione. Non ci sarà città che noi non distruggeremo prima del giorno della risurrezione, dice il Corano. La visione istantanea del vuoto cesse, con lei la sospensione dello sguardo. La massa indistinta della moltitudine si va ricostituendo, come un sol corpo primigenio che si moltiplichi per trasparenze e ombre contro la luce radente del tramonto. Segni di un messaggio incerto, infinite possibilità di giocare in uno spazio vuoto, dici, quando la tua voce, sul punto di estinguersi, la piazza e la pagina bianca già diventano una cosa sola. Filtrante luce oscura, uniforme uccello dell'aria, piazza, piazza degli estinti e dei morti, piazza dei viventi, simulacro quotidiano, saggio, vigilia, anticamera, luogo della convocazione assoluta.